Evangelizzazione perché questa è la missione della Chiesa e la missione di ogni cristiano. Gioia perché non si può trasmettere il messaggio se non c'è la gioia nel cuore. Condivisione perché qui impariamo la fede, impariamo la verità del cristianesimo insieme, aiutandoci a vicenda. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Regina Apostolorum è un istituto di formazione universitaria che ha come scopo la formazione di operatori pastorali, cioè di tutti coloro che in qualche modo si impegnano nei vari ambiti della Chiesa. L'istituto nasce nel 1999, col passare del tempo comincia a dedicarsi alla formazione di coloro che poi saranno insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni grado, pubbliche o private. Ho scelto l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum perché ho sempre desiderato approfondire il mio credo, la mia fede, in qualcosa che ho sempre posticipato, ma poi sono arrivato a conoscenza di un bravissimo insegnante di religione che ha indicato questa facoltà, questa università, presso la quale ho trovato innanzitutto flessibilità negli orari, essendo padre di tre bambini, tre bambini piccoli, lavoratore a tempo pieno, ho trovato nei docenti un'accoglienza, posso dire, anche familiare. Mi ha dato la possibilità di conoscere persone completamente diverse da me, che parlano una lingua diversa ed hanno una cultura diversa. Mi ha reso parte di una famiglia. Io consiglio vivamente l'iscrizione all'istituto qui da noi perché qui troverai una formazione di eccellenza, ma anche un ambiente di cordialità, di accoglienza, uno spazio che consente lo studio e soprattutto stimoli per poter trasmettere il Vangelo nel migliore dei modi.